io sono chiamatemi guerriera e questo è il mio canale ieri sera prima puntata del grande fratello un'ottima conduzione di alfonso signorini con la collaborazione di antonella elia e pupo come opinionisti il primo vip ad entrare è stata matilde che per la prima volta partecipa ad un reality show il secondo a entrare nella casa del grande fratello è stato fausto de ali intonando con pupo un suo grande successo a chi il terzo a entrare è stato enoac il fratello di balotelli la quarta è stata diane una modella brasiliana che assieme a enoac sono entrati nella casa del grande fratello da una porticina minuscola la quinta entrare nella casa è stata la contessa de blanc mentre gli altri concorrenti sono stati accompagnati da delle belle macchine lei è stata portata con una pecar ma come entrata nella casa ha mostrato subito il suo carattere fumantino questo concorrente a entrare nella casa è stato l'influencer tommaso che quando è entrato ha avuto una discussione con la contessa il settimo concorrente invece andrea il modello tronista che nella storia degli uomini e donne detiene il record di aver baciato più donne poi sono entrati due attori assieme adua e massimiliano che in passato hanno avuto una storia finita male e speriamo che ora che sono nella casa del grande fratello chiariscano perché vabbè entrambi loro hanno la propria vita la nona concorrente flavia vento che è entrata vestita da sirenetta e deliziando le nostre orecchie con il cantico delle sirene che ora vi lascio qui ascoltare un pochino poi mi direte cosa ne pensate del cantico delle sirene no no un altro vip a entrare è stato pierpaolo un ex velino di striscia la notizia le preferenze riguardando ai vip entrati nella casa vanno verso la contessa del quale ho apprezzato molto il suo modo di mettersi in gioco con simpatia mi è piaciuto anche matilde con il suo carattere spumeggiante mentre negli uomini mi è piaciuto molto enoac per la sua simpatia riguardo agli altri concorrenti devo ancora conoscerli bene però a pelle non mi è piaciuto per niente massimiliano perché non mi piacciono le persone gelose e non mi è piaciuta la sceneggiata che ha fatto vedere di quella rissa una novità nella casa del grande fratello esiste una social room dove entrerà un influencer famosissimo che potrà interagire con il mondo esterno per la prima volta nella storia del grande fratello i concorrenti potranno parlare dei fatti che succedono fuori dalla casa e interagire con i propri fan questa cosa io la trovo veramente geniale anche perché con i fatti che sono accaduti abbiamo visto che nelle scorse edizioni i ragazzi sono stati spiazzati su quello che stava succedendo quando poi uscirono dalla casa e credo che questo modo che i ragazzi possano rimanere aggiornati sulle notizie parlarne discuterne e anche esprimere i propri pensieri credo che sia una grande genialata e poi in studio c'erano 50 persone con la mascherina e questo è tutto io vi aspetto sabato alle ore 20 in live per parlare dei concorrenti che entreranno per sapere cosa ne pensate voi del grande fratello dei concorrenti per spettagolare un pochettino da chiamatemi guerriera è tutto baci stellare fate i bravi e mi raccomando non dimenticatevi l'appuntamento di sabato alle ore 20 ciao ciao